ciao a tutti benvenute anime qui su quinta dimensione letture grazie a tutti di seguirmi sempre così con affetto do il benvenuto e il bentornato a tutti chi è nuovo a chi non l'avesse ancora fatto invito a iscriversi al canale e attivare la campanellina cliccando su tutte allora oggi vi metto un altro contenuto che potrebbe sbloccare l'energia appunto che riguarda del denaro quindi da aggiungere eventualmente a quelli di voi che fanno già i decreti e codici sacri e che trovano particolarmente ostico un'energia molto ancora diciamo stagnante per quanto riguarda il fluire dell'energia del denaro in questo caso a quelli che ancora non hanno realizzato consiglio fortemente di fare anche il decreto dell'arcangelo razia perché probabilmente ci sono dei voti ci sono dei discorsi carmici molto pesanti dietro in confronto a chi già ha sbloccato chi vede che ci sta mettendo tanto aggiunga anche questo che staremo per fare oggi insieme in modo da poter proprio tentare a 360 gradi ancora con la forza come dico sempre io come un caterpillar devi essere per tentare appunto di buttare giù questo muro che ti sta bloccando il fluire dell'energia del denaro che ricordo a tutti non è sporca anzi è divina il denaro è tuo per diritto divino l'abbondanza è tua per diritto divino non c'è niente di sporco non c'è niente di sbagliato non c'è niente di cui sentirsi in colpa va bene hai diritto a tutto non sei sbagliato non sei sbagliata non sei una persona che non merita sei meritevole di abbondanza va bene quindi proviamo anche con questo decreto per aprire la mente proprio al denaro inatteso o comunque sia anche se noi lo stiamo già attendendo ma diciamo questo colpo di fortuna proviamo a farlo arrivare che sia sotto forma di una tantum nel senso magari ci arriva del denaro inaspettato tramite vincite cose vecchie che non pensavamo più oppure che ci arrivi proprio quello che stiamo già aspettando diciamo no sotto forma di sblocco proprio per per ognuno insomma poi ognuno ha la sua situazione quindi cerchiamo proprio di andare a sbloccare la parola chiave è lo sblocco faremo quindi questo decreto insieme ripeto a tutti lo leggo io non lo scrivo in sovraimpressione semplicemente perché è un po lunghino perciò ve lo metto sotto in descrizione come poi sono anche fatti gli altri sede critiche codici sacri leggetelo in descrizione magari mi fate lo screenshot per recitarlo poi da soli chi lo vuole recitare sopra me per unire le energie lo reciti sopra me ma io ho la mia velocità quindi se ti ritrovi in risonanza con la mia velocità lo puoi fare tranquillamente con me altrimenti ripeto prendi nota fai lo screenshot della descrizione dove lo scriverò tutto intero dall'inizio alla fine e questo insomma poi vedi tu come lo vuoi fare diciamo questo non ha una durata nel senso cosa buona sarebbe farlo tutti i giorni finché non ci sia non non vedi lo sblocco ok questo è l'importante questo non è il solito codice sacro che cosa che ha una certa diciamo frequenza nel farlo 21 giorni tutti i giorni insomma qui lo fai e basta c'è poche ciance ok questo si fa punto e basta si aggiunge anche a quello che già si sta facendo potete aggiungere tante cose durante la giornata fatevi una vostra buona abitudine un quadernino un qualcosa so che tanti hanno già fatto dei quadernini ciao a tutti saluto quelli che mi stanno seguendo che hanno fatto proprio i quadernini con me che dicono allora oggi devo fa questo questo e questo grazie mille ottimo ottimo e poi faremo oltre al codice tre stese dove ti metto una carta dell'angelo dell'abbondanza quindi vediamo un po cosa ci dicono loro e anche dei numeri come abbiamo fatto in precedenza negli altri decreti codici sacri mettiamo dei numeri proviamo a tirar fuori qualche numero fortunato sempre insomma prendiamolo così come viene senza attaccamento al risultato perché sennò il risultato non c'è e proviamo va bene quindi adesso intanto tiro fuori le stese tu le scegli poi facciamo il decreto e poi facciamo le carte allora iniziamo con la stesa 1 che è con il cubo viola eccolo qui cubo viola la stesa 1 vediamo se si vede ok la 2 è con il cubo giallo e la 3 è con il cubo rosso quindi la lettura 1 la facciamo al cubo viola la lettura 2 al cubo giallo la lettura 3 al cubo rosso intanto scegli uno di questi tre cubi e io parto allora quando si fa un decreto concentrazione tre respiri profondi ok non lo metto in sovraimpressione leggetelo sotto chi vuole lo legge sopra me ripeto non me lo chiedete ancora non c'è un tempo non valgono i 21 giorni fatelo quando vi serve lo iniziate e lo fate ok l'importante è cercare di insomma di sfondare questo muro per il quale a qualcuno non riesce ancora ad arrivare all'abbondanza quindi lo facciamo è un po quello che volevo fare oggi è il giorno giusto quindi respiriamo ci concentriamo chiediamo all'universo proprio di aprirci i canali benedetti del denaro ok e facciamo questo decreto appunto per il denaro inatteso decreto per aprire la mente ok e partiamo ultima cosa quando dico io e dirò la parola io perché effettivamente inizia con con un con io lì dovete dire il nome e il cognome per esempio io nome e cognome tuo e poi prosegui con la recitazione io mi fermerò qualche secondo per darti il tempo di dire il tuo nome e cognome nome e cognome non si può fare per un'altra persona lo devi fare per te partiamo ricordati quando dirò io nei secondi di silenzio devi dire il tuo nome e cognome respira io profondamente e fermamente riconosco che il denaro è l'energia di dio in azione nel mondo fisico e che dio è la fonte di ogni offerta di benessere e di denaro io sono convinto che l'universo sia abbondante e che la mia scorta sia infinita e che mi arriva da innumerevoli vie la mia scorta è così abbondante che io sono sempre consapevole di ricevere i regali inaspettati dell'universo da fonti inaspettate io ho diritto ai miracoli io mi aspetto sempre miracoli nella mia vita un vasto miglioramento arriva a me sotto forma di soldi nel qui e ora io sono prospero in tutte le aree della mia vita con sovrabbondante benessere innumerevoli canali si aprono per me nell'area finanziaria nel qui e ora grandi somme di denaro arrivano a me nel qui e ora per il mio benessere e per quello di tutti i miei cari grazie al mio dio padre madre fonte di tutta la mia scorta io vedo grande benessere economico successo e salute vibrante per me nel qui e ora io reclamo per me la mia parte dell'universo che si manifesta nel piano divino per me e lo dico lo benedico e lo ringrazio qui e ora io apro la mia mente alla prosperità che è mia per diritto divino e mi metto in atteggiamento ricettivo per ricevere tutta l'abbondanza e il benessere che l'universo ha per me qui e ora così sia così è così è fatto molto bene abbiamo fatto il decreto fatelo quando vi sentite quando ne avete bisogno senza una linea guida lo fate e basta ok allora mi ricordo lo potete aggiungere ed è per voi è personale aggiungetelo pure alle vostre letture già quotidiane che fate non c'è nessun problema di sovrapporre tanti codici insieme non c'è nessun problema basta che ci mettete però il cuore ok e la fede fiducia assoluta e quando finita il codice non mettetevi lì a vedere se vi è arrivato un bonifico ok si fa e si lascia andare fate altro poi ok questo è un importantissimo importantissimo e fondamentale allora se hai scelto una di queste tre letture io inizio e metto per ognuno due carte va bene e proviamo a vedere cosa ci dicono gli angeli dell'abbondanza e la sibilla della fortuna partiamo chiamiamo la presenza io sono che ci chiede i consigli proprio oggi per noi che ci risolvano veramente tante cose a chi ascolta qui adesso a chi ha scelto il cubo viola cosa va detto a chi ha scelto il cubo giallo cosa va detto a chi ha scelto il cubo rosso allora partiamo con gli angeli dell'abbondanza cubo viola vediamo cosa ti vogliono dire gli angeli dell'abbondanza a chi ha scelto il cubo viola il messaggio è allora affronta le tue paure sui soldi quando sei onesto con te stesso circa la paura che hai del successo o del fallimento queste paure non potranno più poi controllarti ok lascia queste paure alla luce ok mandale proprio verso l'universo mandale dia agli angeli angeli io affido a voi le mie paure ok e realizzerai che infatti non hai niente di cui aver paura e che ogni persona di successo comunque ha rilasciato proprio queste paure personali che li hanno bloccati quindi affronta le tue paure questo è proprio il codice adatto a te eh questo è il decreto adatto a te qua si afferma che tu sei convinto convinta che l'energia del denaro un'energia divina tua per diritto punto quindi questo vuol dire affrontare in faccia le proprie paure affrontare proprio con te stessa con te stesso non devi avere paura del denaro accettalo vedilo luminoso non ti preoccupare non è sporco il denaro non è sporco molti sono stati cresciuti con questa ideologia assolutamente errata questa è bassa energia ok invece dobbiamo fluire nelle altre nelle alte energie mi raccomando cubo viola affronta proprio di petto le tue paure per quanto riguarda i soldi questo devi fare devi fare riconoscile e lasciale andare mandala nella luce ok paure andate pure nella luce io non ho bisogno di voi chiama la tua presenza io sono ok per tutto questo e sentiti meritevole ricordati bene le parole stupende bellissime di quel decreto che abbiamo letto prima che tu hai diritto divino dell'abbondanza ok allora questo era il primo passiamo al secondo cubo perché li metto dopo i numeri allora cubo giallo vediamo gli angeli cosa ti vogliono dire dell'abbondanza donazione allora qui ci sono da fare delle opere anche eventualmente caritatevoli allora dona con gioia magari a qualche organizzazione o alle o alle persone ok che ti supportano spiritualmente e che ti ispirano ok e sappi che la generosità ti ritornerà indietro in molti modi assolutamente anche miracolosi il tempo che dai le risorse i soldi che tu doni ok ti assicureranno comunque delle energie positive che ti torneranno moltiplicate ok quindi qua cubo giallo sappi ti dicono proprio che tutto quello che tu farai sarà comunque intanto appoggiato dal cielo e ti ritornerà credici al ritorno divino perché tornerà non guardare anche lì il tempo ma io e tanto che no questo è un atteggiamento basso tu devi dare e lasciare andare fare e lasciare andare qui ti dice proprio che ti tornerà tutto tramite energia positiva ti tornerà indietro moltiplicato fai pure delle donazioni ok alle persone qui dice che comunque o ti supportano spiritualmente ti ispirano e sappi che la tua generosità tornerà indietro in tanti modi miracolosi potrebbe essere sotto forma di soldi anche a te o potrebbe essere sotto forma di un altro miracolo sempre per te che in quel momento serve nella tua vita quindi non importa il come l'importante è il ritorno energetico positivo che sicuramente ci sarà ti sta dicendo qua quindi ti sta rassicurando che ci sarà il ritorno per te non aver paura a donare ok vediamo il cubo rosso cubo rosso ah beh qui lascia stare il senso di colpa allora quando permetti alla tua luce di brillare veramente così proprio in modo scintillante ispiri gli altri perdona te stesso per cosa pensi che hai fatto che non hai fatto no abbi fiducia nell'amore di dio che ti ama incondizionatamente chiunque tu sia ok impara e cresci dagli errori del passato quindi farne una lezione dei tuoi errori del passato invece che diciamo colpevolizzarti sempre per le cose che hai fatto lascia andare il senso di colpa qua non ci deve stare quindi qui visto che parliamo di soldi probabilmente qualcuno ha qualche blocco anche dovuto a qualche senso di colpa sappi che dio ti ama comunque incondizionatamente chiunque tu sia e in qualsiasi modo tu sei ok impara sì ok dagli errori del passato però lasciali andare non rimbangare sempre le cose del passato che non vanno bene ok il senso di colpa se ne deve andare ognuno fa gli errori che deve fare molto spesso anche per scelta dell'anima per una lezione che si doveva imparare quindi basta lascia andare e ti dice qua lascia che la tua luce risplenda ok proprio in modo meraviglioso e che possa ispirare anche gli altri quindi via questo senso di colpa ok non sentirti colpevole va bene cubo rosso questi erano i consigli per voi per quanto riguarda gli angeli dell'abbondanza adesso li togliamo e prendiamo i numeri allora vediamo dalla nostra sibilla della fortuna eccola qua l'abbiamo già presa in altri decreti codici sacri chi lo sa e andiamo partiamo con il cubo questi li togliamo adesso però cubo viola i numeri per te vediamo anche una ruota ne prendiamo tre il primo numero perché hai scelto il cubo viola qual è da giocare ovviamente ragazzi non è un'incitazione al gioco qui prendiamo tutto così come intrattenimento quindi non è un'incitazione ok andate piano con il gioco vediamo numero 67 e la ruota favorita qua ci dice Cagliari un numero buono con il 67 62 scriviamo la sessantina ruota Cagliari e l'80 allora 67 62 80 sono i numeri che ci sono usciti da capo questi in alto ok la ruota principale Cagliari ruota secondaria Genova e Firenze questo vedete voi come volete giocare come siete abituati a fare o come vi viene ispirato magari una ruota vi ricorda qualcosa o è una ruota fortunata o è un iniziale del vostro nome questo vedete G qui abbiamo la C di Cagliari la G di Genova e la F di Firenze quindi vedete voi se ti ispira più Firenze li giochi tutti su Firenze ok però la cosa principale il numero principale la ruota principale usciti tutti per primi sono la ruota di Cagliari con il numero 67 poi chi vuole per un Ambo ci abbina il 62 per un Terno ci abbina l'80 altre ruote se le vuoi giocare ancora oltre Cagliari c'è Genova e c'è Firenze questo è uscito a chi ha scelto il cubo viola va bene prova gioca sempre pochino anche un euro va bene e vedi un po' per alcune volte fatemi sapere poi se vincete nei commenti come è successo negli altri decreti che hanno vinto anche ambi secchi fatemi sapere sotto perché io non ho tempo di seguire tutte le cose poi se sono uscite non sono uscite eccetera eccetera quindi sono contenta se vincete mi raccomando e soprattutto recitate il codice il decreto i codici tutto quello che state facendo continuate a farlo i lavori con energie richiedono tempo va bene però sicuramente se sei qui a guardare questo video insomma tanto un caso non è ok cubo viola io ti saluto ti ringrazio lasciami un like al video iscriviti al canale e io vado avanti andiamo con il cubo giallo per te che hai scelto il cubo giallo vediamo numeri fortunati e ruota per chi ha scelto ora il cubo giallo mi raccomando non è un invito a giocare e se giocate giocate sempre pochi con moderazione vediamo numeri fortunati e ruota per chi ha scelto il cubo giallo principale allora 54 su palermo quindi numero principale 54 la ruota principale è palermo cosa possiamo abbinare di fortunato qua il 69 cosa possiamo abbinare di fortunato qua 1 numero e ruota principali è 54 il numero palermo la ruota altri numeri che potete abbinare per ambo 69 con la ruota cagliari e il numero 1 con la ruota milano quindi chi vuole allora il principale che ci è uscito ricordatevi 54 su palermo poi però chi ama anche giocare ambo eterno ci abbini il 69 e ci abbini anche il numero 1 chi vuole provare su più di una ruota oltre palermo abbiamo cagliari e milano va bene questo fatelo voi scrivetemi sotto se vincete perché non ho tempo di controllare tutti quindi sappiatelo me lo scrivete sotto come è già successo appunto negli altri decreti e video codici sacri che poi è stato vinto anche l'ambo secco fatemi sapere voi e insomma due tre volte di solito si gioca tre volte insomma vedete voi ecco non è sicuramente un invito a ostinarsi nel gioco però uno sta qua così ok come intrattenimento giochiamo proviamo così un euro e vediamo un po' cosa succede l'importante è sempre il decreto però senza decreto senza sblocco dell'energia del denaro la vedo dura ok quindi cubo giallo questi erano i numeri magari fatti nello screenshot non so vedi se te li ricordi te li segni su un foglietto ok questo è quello che ti è uscito a te io ti saluto ti ringrazio mi raccomando fai il decreto e ti invito a iscriverti al canale attivare la campanellina procediamo per chi ha scelto il cubo rosso ti ricordo sempre di giocare con moderazione cubo rosso siamo qua per intrattenimento e non certo per vizio proviamo proviamo vediamo un po' numero fortunato numeri fortunati e ruote fortunate il principale qual è però vediamo un po' cosa ti viene fuori cubo rosso 10 su firenze allora qua 10 su firenze è sicuramente la prima cosa che ti viene consigliata quindi puoi anche giocare solo questo ok vale anche per l'altre stese però vediamo gli abbinamenti cosa possiamo abbinare il 10 di firenze fortunato numero 62 altro numero 59 eccoli qua allora abbiamo quindi principale il numero 10 e principale ruota firenze ruote aggiuntive genova e torino altri numeri tipo per ambo da aggiungere al 10 c'è il 62 per terno da aggiungere al 10 62 c'è anche il 59 questo vedete voi un pochino se vi ispirano le ruote se nelle ruote c'è l'iniziale del vostro nome insomma l'ispirazione che avete infatti lo screenshot quello che vuoi te li segni su un foglietto fatemi sapere se vincete nei commenti come è già successo appunto anche in altri video che sono usciti anche degli ambi secchi insomma mi sembra anche gli estratti mi sembra su ruota insomma questo vedete voi fatemi sapere perché io non ho tempo appunto di seguire sempre tutte le estrazioni ecco quindi cubo rosso questo era comunque la cosa principale ricordati sempre 10 su firenze poi dopo se vuoi fare un pochino di più qualcosa tipo ambo eterno eccoli qua 62 59 e come ruota aggiuntiva se non vuoi giocare solo firenze prova anche su genova e su torino ovviamente qualcuno può giocare anche su tutte non è obbligatorio però mi raccomando sempre giocare poco giocare con moderazione ok e siamo qua così per appunto gioco per intrattenimento quindi non va preso troppo sul serio tutto questo l'importante invece cubo rosso e quello che va preso sul serio ma vale per tutti è sicuramente il decreto per aprire la mente proprio all'energia del denaro all'energia divina ok quindi invito tutti quelli che non hanno ancora fatto a iscriversi a questo canale attivare la campanellina a lasciarmi anche un like al video così aiutate appunto questi video questo canale a crescere ok su youtube e che altro dirvi vi ringrazio tutti quanti mi raccomando i decreti i codici sacri vanno fatti con fede convinzione leggete la descrizione del video ok per vedere tutto il decreto scritto questa è la tovaglietta multidimensionale chi interessa sono le tovagliette di quinta dimensione letture create personalmente da me quindi che altro dirvi per il momento vi ringrazio vi saluto leggete la descrizione dei video e vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo interattivo con me ciao a tutti e grazie grazie a tutti